Giorgio Armani, Giorgia Meloni è una donna con attributi robusti, ha ragione Armani, Giorgia è una donna con gli attributi, non a caso vuole essere chiamata il presidente. Ora, io non so se Meloni abbia davvero le palle, però sono sicuro che c'è qualcuno a fianco che gliele rompe. Ora, ufficialmente, ufficialmente lui fa l'amicone, no? Salvini, io e Giorgia uniti e compatti in lei ho un'amica, ma appena poco questa amica, la pugnala alle spalle come in Sardegna, eppure lei non si butta mai giù ragazzi, conserva sempre la sua verve, nell'ultima uscita non ha fatto discorsi, cazzo, era cabaret, cos'è questa radio? C'è una radio? Ah, c'è una radio che arriva bellissimo, da sopra dalle luci c'è una radio che arriva. I feel good, ok. Nelle ultime uscite non ha fatto discorsi, ha fatto cabaret puro, è riuscita persino a improvvisare dei passi di danza, ormai è una showgirl completa, secondo me dopo l'era di Amadeus sarebbe perfetta per condurre Sanremo. Almeno lì non c'è il televoto disgiunto. Vediamola.